Arriva la prima vera inversione di tendenza per quanto riguarda Bitcoin, la prima vera inversione di brevissimo periodo, la prima vera fase di ritracciamento da settembre del 2023, non è ancora una fase importante, è una fase appunto di respiro, aveva avuto una fase di break durante la fase di novembre e poi però ragazzi era sempre solo salito da oltre tre mesi. Quindi questo almeno fino alla prima settimana di dicembre dove il mercato ha iniziato appunto questa fase, vedete il classico zigzag di ritracciamento e di respiro che teoricamente ha il potenziale di invertire tutto il movimento rialzista almeno con un movimento di breve periodo però al momento non lo ha fatto perché si è mantenuto al di sopra di un livello importantissimo che andiamo a vedere proprio in questo video. Tra le altre cose, nella giornata di ieri avevo pubblicato sul mio canale Telegram, vi faccio vedere il canale in diretta ragazzi, eccolo qui, avevo pubblicato un dato, in pratica una analisi abbastanza interessante dove indicavo che a livello di ciclo settimanale, Bitcoin in pratica doveva andare a chiudere un ciclo settimanale intorno alla zona dei 40.000 dollari entro la giornata di oggi barra martedì. Quindi in pratica vedete avevo indicato questa mini analisi, Bitcoin sembra indirizzato verso una fase di debolezza fino alla chiusura di questo ciclo settimanale a testo in chiusura tra domani che sarebbe oggi appunto e dopo domani martedì. Un'eventuale inversione rialzista dopo questa fase se dovesse essere debole potrebbe essere un segnale negativo per un Natale in rosso. Questo è il vero problema diciamo di questa fase ragazzi, intanto vi lascio il link del mio canale Telegram in descrizione, vi ricordo che siamo stati per fortuna anche verificati, quindi quello è il canale Telegram ufficiale con la spunta blu e per fortuna addio agli scammer da questo punto di vista, quelli che diciamo tentano insomma di lucrare su i diciamo gli utenti. Mi raccomando ragazzi non vi fidate mai di chi vi dice che vi dà informazioni a mio nome, non sono io ovviamente, i miei canali ufficiali sono tutti con la spunta blu. Allora vi lascio il link in descrizione sulla questione Telegram. Per quanto riguarda invece questa fase, quindi anche fino a domani è attesa la chiusura di un ciclo di una settimana circa dei minicicli insomma adatti ai trader ragazzi non investitori, che però ci danno anche il polso della situazione. ci dicono se effettivamente il mercato può essere in pratica indirizzato verso una fase di una fase di in pratica respiro oppure no scusate ragazzi allora che sono ovviamente da portatile ed è sempre tutto più difficile. Allora per quanto riguarda invece la attuale situazione la andiamo a vedere oggi perché questa è una zona estremamente interessante e già vi dico che dal mio punto di vista anche una fase di respiro prolungata fino a Natale ma che non intacca alcuni determinati livelli secondo me è meglio addirittura di una fase di ripresa immediata della trend rialzista. per un po' di motivi che riguardano la questione dei cicli annuali di Bitcoin di cui parleremo ampiamente nelle prossime settimane ragazzi quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Non ho detto bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lo dico oggi, Bitcoin Mondays oggi lunedì io sono in giro per il mondo come sempre ragazzi quindi ovviamente in questa settimana ho registrato alcuni contenuti se dovessero uscire fuori delle cose particolari ovviamente poi farò un briefing quindi questo è l'unico contenuto che riuscirò a realizzare proprio in live. Vi faccio poi presente che c'è la campagna di trading natalizia di BitGet dove si vincono fino a 6.000 dollari divisi eccetera però i premi dovrebbero essere intorno ai 500 dollari per il primo classificato o 200 per il secondo e 300 per il terzo ma dobbiamo raggiungere i 50 iscritti altrimenti si dimezzano questi premi ragazzi. Intanto siamo con due tipologie di competition che si possono realizzare e sono quella sul volume e quello a rapporto PIL tra le altre cose vedo già che ci sono degli utenti che comunque sono riusciti a realizzare dei buoni livelli di rapporto PIL. Allora vi lascio il link in descrizione, è gratuita completamente, qui trovate la questione legata al 10-50 partecipanti i premi da 50 partecipanti poi i premi saranno più alti quindi se ci iscriviamo ne mancano una ventina, 25 circa quindi se ci iscriviamo tutti quanti in pratica aumentano i premi ragazzi ok? Anche se non fate trade vi iscrivete e fate insomma date il là insomma anche l'aumento dei premi per gli altri utenti quindi mi raccomando ragazzi allora vi lascio il link in descrizione, lo dovete iscrivere dal mio referral non è possibile se siete iscritti con un altro referral di BitGet partecipare alla competition allora vi lascio il referral, ovviamente la pagina di iscrizione dove potete fare clic su accedi e lo potete fare solo da browser quindi questa cosa mi raccomando un briefing velocissimo a quelli che sono i dati settimanali della settimana appunto l'IPC, il tasso di inflazione europea domani esce intorno alle ore 11 orario Italia è previsto in rallentamento rispetto alla precedente view ragazzi alla fine l'anno 2023 in pratica il tasso di inflazione europeo si quasi stabilizza al tasso target del 2% perché saremo intorno al 2-4% se addirittura sarà un po' inferiore all'attese in pratica ragazzi possiamo dire che le politiche monetarie hanno funzionato quindi disastri a parte, spauracchi a parte, macroeconomia avanti tutta ognuna di queste situazioni sono riusciti diciamo a controllare il tasso di inflazione allora la sfida sarà spostata il prossimo anno a controllare il livello di recessione economica che sarà una questione differente allora poi abbiamo altri dati di cui io non mi preoccuperei più di tanto perché c'è il PIL degli Stati Uniti per il terzo trimestre non l'annuale atteso in fortissima crescita ma il terzo trimestre diciamo era già impostato così le richieste di disoccupazione che sono un poco poco più alte ma irrilevanti quindi movimenti standard, oscillatori, niente di rilevante e non ci sono altri particolari indicatori l'indicatore secondo me che riguarda più l'economia mondiale standard è quello relativo a un... ho tanti grafici oggi a farvi vedere ragazzi ecco non trovo quello giusto è quello relativo a un Nasdaq 100 e un SP500 che raggiungono i massimi storici questo è Nasdaq ragazzi che tocca i massimi storici ve lo ripeto i massimi storici dopo la bull run del 2020-2021 dopo la pandemia il crash dovuto al rialzo dei tassi l'impostazione di una nuova fase ciclica poi la chiusura di un ciclo annuale il 25 di ottobre 2023 per quanto riguarda Nasdaq 100 questo è il contratto future e mini ragazzi e dopodiché la risaluita con un nuovo massimo in questo nuovo ciclo annuale questo parla chiaro da molti punti di vista perché abbiamo senza ombra di dubbio fatto un anno stellare anche per quanto riguarda i mercati classici che da dicembre-gennaio 2023 che erano in questa situazione si sparano un rialzo notevole non come quello delle crypto ma comunque sostanzioso per quanto riguarda i mercati classici ed era assolutamente non atteso da tantissime persone quindi questo è molto significativo anche di come il mercato classico segue la sua linea in base a strutture cicliche e di natura economica quindi in questo caso appunto al fatto che non siamo andati in recessione non è avvenuta questa cosa sarebbe interessante vedere se quel massimo reggerà ragazzi perché ancora siamo in una fase di doppio massimo allora per quanto riguarda Bitcoin che cosa sta succedendo? senza ombra di dubbio siamo nella fase di chiusura di un ciclo mensile di Bitcoin che è atteso a 30 giorni in chiusura questo venerdì 22 di dicembre il livello però del minimo del toccato nel shadow dell'11 di dicembre non è stato ancora toccato prezzi Bitstamp in questo caso perché oggi siamo arrivati a 40.000 e 5 qui invece siamo a 40.181 non mi risulta che sia stato toccato anche su altri exchange quindi in sostanza potrebbe continuare questa fase di discesa a fare il doppio minimo quindi un touch di quel livello e chiudere il ciclo mensile di Bitcoin un ciclo mensile che però ha una fase di chiusura un po' intensa non mi piace tantissimo tant'è vero che io sto rivedendo anche tutta la struttura ciclica di Bitcoin stesso per capire se effettivamente potrebbe essere in fase di chiusura un trimestrale non soltanto un mensile trimestrale quindi che sarebbe stato a tre tempi molto lungo per quanto riguarda Bitcoin ma siamo abituati a questo tipo di trimestrali lunghi che fa un movimento del genere e che va a chiudere i giochi appunto di un ciclo superiore un trimestrale con un tempo che potrebbe essere intorno ai 100 giorni che è un po' più lungo del normale ma non è abnorme perché Bitcoin soprattutto su un ciclo lunghissimo scusate molto rialzista come questo attuale dove in pratica ha quasi raddoppiato il prezzo può fare dei cicli sensibilmente più lunghi perché i cicli rialzisti molto forti vedete qui siamo più o meno agli attuali prezzi a più 60% con un picco di più 77% quindi in sostanza ci sta che il ciclo trimestrale di Bitcoin sia lungo perché vi dico questo perché se dovesse essere iniziato un nuovo ciclo trimestrale appunto su Bitcoin dovesse iniziare alla chiusura di questo ciclo mensile potrebbe avere un impulso notevole per spingere i mercati oltre i massimi e soprattutto si andrebbe a configurare un cambiamento ciclico importante per quanto riguarda la struttura dell'annuale che a quel punto avrebbe sempre più probabilità di essere un annuale un biannuale quindi due anni a forma ternaria di cui vi parlerò in un video dedicato perché è abbastanza complesso e poi voglio intanto vedere se questa view va in porto altrimenti è inutile parlarne facciamo solo sperequazioni come si diceva una volta allora attesa del ciclo mensile di Bitcoin in chiusura da domani ogni minimo è buono perché ovviamente c'è la volatilità ciclica del tempo quindi ci sta io mi aspetterei però un minimo inferiore alla zona di 40 o un touch della zona di 40 attenzione che la tenuta non è importantissima cioè non è proprio importante la tenuta del minimo è importante che in close non si vada a fare uno sciacquone perché c'è quest'altro grafico che volevo farvi vedere che ve la dice lunga sul livello della settimana in questione questo è un grafico che io utilizzo per una strategia in academy che si chiama strategia settimanale dove noi andiamo a ragionare su buy the dip a livello settimanale è una strategia molto comoda perché fa pochissime operazioni e è solo per tradere allora questa settimana la settimana verde che era stata l'ultima quella dei massimi di questa fase di bitcoin è stata totalmente ritracciata quasi totalmente dalla settimana successiva è rimasto un piccolo pezzettino e questa settimana è iniziato il rosso cosa significa? che il minimo della settimana verde in questione cioè il 39.360 dollari prezzi Bitfinex scusate il cambio degli exchange ma i grafici impostati così in questo caso perché mi servono i prezzi di Bitfinex per la strategia questo livello di supporto diventa importantissimo perché se il mercato lo rompe in maniera consistente rischia uno sciacquone vicino a un altro livello di supporto che è ben più basso cioè è in questa zona qua 38.100 quindi non è soltanto il 40.000 un livello psicologico ragazzi ma è anche un livello importante da un punto di vista di price action che quindi se breccato è a livello daily non si recupera immediatamente cioè se fa un asciato e poi recupera un discorso ma se non recupera in maniera immediata rischiamo gravemente di ritornare a 38.000 e qualcosa nulla di trascendentale perché da un punto di vista di questa fase ciclica l'arrivo a 38.000 sarebbe il pullback di questo livello di supporto ma sarebbe molto molto basso quindi a quel punto un mensile semplice non mi sta bene così profondo dovrebbe essere un trimestrale e potremmo avere diciamo una logica in questo però poi bisognerà vedere se un nuovo movimento realzista riuscirà a recuperare questi massimi perché poi diventano molto lontani in linea di massima per fare il gioco di parole questa è l'area di supporto 40.38.2 questa zona deve tenere nella settimana in questione quindi se fa una cosa del genere è anche una zona interessante da valutare per un eventuale buy the dip speculativo per chi di voi volesse in effetti mettere mano a un'operazione straordinaria e iper speculativa su bitcoin proprio in questo contesto c'è da dire secondo me che si sposa molto bene con quello che vi ho detto nel video che ho pubblicato venerdì ragazzi video di venerdì che vi lascio sopra la mia testa dove io parlavo appunto delle top altcoin dove dicevo che quelle top altcoin potevano andare in una fase di ribasso di rifiatamento fino a natale appunto e quelle zone potevano essere zone di acquisto speculativo questo concetto che vi sto dicendo è un arrivo di bitcoin in questa fascia di prezzo proprio alla fine di questa settimana quindi intorno alla 22-23 sancirebbe questa idea cioè indicherebbe tendenzialmente che siamo in una fase di respiro che potrebbe essere un'occasione di buy chiaramente quando si fanno dei buy dei dip di questo tipo intanto non sono così finanziari ragazzi bisogna ricordarsi in maniera enorme e importantissimo che o siete trader professionisti quindi formati o una frase del genere se lo fate senza la dovuta formazione sull'inserimento degli stop loss rischiate veramente tantissimo perché siete contro un trend che ha invertito nel breve periodo poi ovvio il trend di medio resta rialzista quindi non siete proprio nell'errore non è che stiate andando contro trend però ovviamente è un contro trend di breve questo va saputo gestire va bene ragazzi quindi questo è fondamentale vi lascio con un ultimo grafico che volevo farvi vedere cioè la continua debolezza di eth contro bitcoin ancora la regina delle cripto non si riprende tra le altre cose secondo me un touch del minimo che ha raggiunto proprio in questo anno intorno a 0,051 è un breakout di questo livello sancirebbe che secondo me la questione di eth è già volta su un nuovo annuale ribassista contro bitcoin questo significherebbe che qui è stato chiuso qualche movimento di cui non mi sono neanche accorto nessuno lo riesce a vedere perché è un zigzag continuo ma in pratica potrebbe indicare una prosecuzione di questa fase di debolezza di ethereum verso bitcoin poi fino ad aprile maggio che attenzione per magari gli amanti di ethereum potrebbe essere negativa ma a livello tecnico ha tutte le carte in regola per andare a chiudere un ciclo importante su eth contro bitcoin e poi lasciare spazio successivamente a un alt season post omaggio lo so e sono discorsi complessi io da un po' che vi dico che bisogna prepararsi da un punto di vista psicologico da questo punto in questa fase diciamo a un eventuale alt season secondo me le questioni post halving di bitcoin quest'anno saranno molto diverse per tanti motivi la mini alt season sulle criptovalute che vi dicevo un mesetto fa è arrivata puntuale l'abbiamo avuta in questa fase e c'è stata la mini alt season però la vera dovrebbe essere appunto dopo questa fase vediamo se è così e soprattutto ethereum ancora non ce la fa a recuperare allora questo minimo 0,051 deve reggere da lì in poi dovremmo cercare di capire attenzione perché un breakout di questo minimo potrebbe anche dare adito uno scivolone di eth verso i primi di gennaio attenzione che scivolone di eth contro bitcoin potrebbe voler dire semplicemente approvazione degli eth di bitcoin bitcoin vola e di eth non sale quanto bitcoin tutto qui quindi in teoria non è una tizia negativa potrebbe essere anzi positiva per l'intero mercato semplicemente che bitcoin va più forte e questo è la vera differenza allora occhi puntati questa settimana buy the dip si buy the dip no cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti io vi auguro buon inizio settimana e buon bitcoin monday a tutti noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao